Buongiorno a tutti, sono le due e mezza anche oggi Mi sono un po' arreso all'idea di riuscire a svegliarmi in tempo La mattina una, sono gigantesco Vi la pida mai oltre tutte quelle tra le labbra queste sortle isbo Fermato a Zoi Bene, anche oggi questa giornata inizio Mi sento al pc per rilassarmi un po' prima di lavorare E trovo Roccosi Freddi nella home di Youtube What? E' deciso, mi ci fiondo Io li attacco i buchi, li attacco i buchi, non li faccio, li attacco No, non mi sembra che tappo Si, si abboglia il tappo, lo è sicuro, non li faccio, li attacco Abbiamo capito Ma quanto pomodoro mette? Non esistono porti in questa resa Ma che cazzo stai a divinare? Ma con me il dipinto, ma è sì Mi so fare un po' di prezzempo Il segreto, ricordatevi, il segreto Poi pomodoro, tanto aglio, però non dovete fare sesso dopo Perché l'aglio fa puzzare la bocca Quindi se ci si bacia, poi... No, 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 no Questo diventa una marinara Col prezzempo Origano Guarda, guarda Non sa tanto quella che sa fare le pizze, che se ungherese E che vuol dire? Gli ungheresi non sanno fare le pizze Questa è marinara, seria Allora, l'unica cosa che mi mancherà è il pe Bene, è una battuta a livello di questo video Ma tu chi sei peccato? Perché? Perché me ne hai messo una farina? Forse, sotto C'hai messo una vita prima di infurnarla, forse Perché lei le ha sempre state accade su per troppo Esatto, per troppo tempo Rocco, Rocco Avessi il cervello grande quanto il tuo cazzo Guardare il video di Rocco mi ha fatto venire un certo languorino Ma vorrei evitare di mostrarvi le immagini Vantandomi del mio pranzo Sapendo quanto a voi molti di fame possa fare gola Soprattutto in questo periodo In cui non riuscite nemmeno a trovare il lievito matri al supermercato Ma eccovelo ugualmente Era spaziale Per quanto mi riguarda però Avrei preferito che fosse stato un po' più... Così Ma non posso lamentarmi Oggi mi tocca Lavo i piatti come una vera donno Piego vestiti Rob e varie E sarò sincero con voi Inizio a prenderci anche un po' di gusto Arriva l'ora di cena E il menù di stasera è Quattro salti in padella di poltiglie di qualcosa E dopo cinque maledettissime ore di montaggio Finisco quel video di nemmeno due minuti di durata E mi risparo per la sesta volta Il mio anime preferito Stooooooon Grazie a tutti.